Il processo avrebbe dovuto iniziare questa mattina ma causa altri procedimenti tra cui un paio instaurati dalla DDA per altre motivazioni e quindi di altra natura, procedimenti di altra natura. Il processo all'Andella Enco inizierà appunto nel primo pomeriggio, si vociferano problemi sulla corretta costituzione delle parti in causa. All'esito della verifica che avverrà nel primo pomeriggio da parte del Presidente del Collegio dello Jacopo, se ci dovessero essere delle problematiche sulla costituzione, difetti di notifica, a quel punto il giudice sarà costretto a rinviare l'udienza. Per il momento è tutto dal Tribunale di Foggia.